Il talento delle nuove generazioni che coincide con il processo di crescita della città. L'assessore Barbara Brunori lo ha definito così, il progetto Porto Futuro Playground, l'evento presentato dall'associazione Umanesimo Artificiale e Carnage Collective, in collaborazione con il Comune, la Regione e la Fondazione Carifano. L'obiettivo è quello di valorizzare un'opera di rigenerazione urbana, che unisce il talento artistico all'innovazione e di offrire ai giovani l'occasione di esprimersi e confrontarsi, grazie al loro talento, questo luogo torna a vivere e a offrire una nuova luce, rilanciando il Porto non solo con l'arte, ma anche con laboratori gratuiti, musica e nuove tecnologie che animeranno il prossimo fine settimana. Le attività inizieranno sabato 28 alle 16 con i laboratori scientifici sia per bambini e bambine, ma anche per ragazzi e per adulti. Sono tre laboratori, due curati dal CNR, il Dipartimento CNR Irbim e il Dipartimento CNR Ismar, insieme a Farecentro, che curerà il terzo laboratorio. Saranno dei laboratori che andranno ad indagare quelli che sono i microorganismi marini, i fondali marini e poi ci saranno laboratori curati da Farecentro sul problema dell'inquinamento in mare. Poi dalle 18 ci sposteremo nel parcheggio antistante murales e il Carnage Collective curerà una serata dalle 18 fino a mezzanotte. Domenica 29 invece l'apertura, l'inizio delle attività è alle 18 con i saluti istituzionali per poi fare una dimostrazione di quella che è la realtà aumentata sui murales e poi dalle 19 ci sarà il live dei Capo Fortuna, che sono un trio riminese-bolognese che fa una musica elettronica strumentale e sperimentale per poi continuare con un DJ set fino a mezzanotte. Il 29, successivamente ai saluti istituzionali, faremo anche una dimostrazione su quello che è la realtà aumentata sui capannoni. Stiamo già lavorando con due ragazzi, due studenti in stage e poi ovviamente ci sarà anche un momento in cui ci piacerebbe ricevere degli input anche dalla cittadinanza per costruire poi il filtro ufficiale, chiamiamolo così, di Porto Futuro. Il progetto è sostenuto anche dalla Regione Marche con un contributo di 35.000 euro, frutto di una partecipazione condivisa. È stato bello veramente collaborare insieme al Comune, insieme anche alla Fondazione e tutti gli enti perché si è creato veramente un bellissimo movimento di persone che amano il Porto, amano la marineria e insieme anche ai titolari degli stabilimenti abbiamo deciso di finanziare in maniera importante questo evento e anche tutta la grafica, quello che tantissime persone si stanno fermando ad ammirare, a fotografare e quindi a pubblicizzare la nostra bella città e il nostro bellissimo Porto. Autori dei murales Federico Zenobi e Nicola Canarecci che hanno ringraziato i fanesi per l'accoglienza ricevuta. Le opere che hanno realizzato sono legate sia al passato, con il marinaio che rappresenta la storia, la fatica e l'esperienza di chi vive il mare, sia al futuro, con la bambina sognante che ascolta il suono del mare nella conchiglia. Nella seconda parete invece è raffigurata la mano dell'Isippo che accompagna una barca storica di Fano come segno di protezione e di buon auspicio. Tanto lavoro, tanta curiosità, è terminato il progetto? Il progetto è terminato, abbiamo impiegato una decina di giorni più o meno, lavorando dalle 8 alle 8 quindi sì, finalmente è terminato, è stato un ottimo lavoro, un'ottima esperienza, siamo veramente contenti. Quali sono le tecniche che avete utilizzato? Abbiamo utilizzato spray, quindi bombolette e vernice al quarzo, oltre a dei fondi per far aderire meglio la vernice sul muro. Abbiamo visto anche tante persone che nel corso di questi giorni vi hanno chiesto informazioni. Sì, siamo stati veramente veramente contenti perché abbiamo notato una risposta da parte dei cittadini veramente veramente bella, passavano a farci complimenti, a salutarci dai bambini agli anziani quindi per noi questa è stata probabilmente la cosa più bella. Anche già motivo di orgoglio? Motivo di orgoglio, anche perché noi comunque creiamo delle opere che si inseriscano bene, facciamo in modo che si inseriscano bene nel contesto, quindi quando vediamo che sono apprezzate da chi passa è una cosa meravigliosa per noi. Grazie. Grazie.